questo programma è offerto da centro sportivo football 24 un'oasi sportiva immersa nella città le previsioni del tempo per la provincia di messina oggi lunedì 10 marzo cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra i 9 e i 15 gradi i 20 soffieranno moderati in direzione nord ovest sud ovest sul versante tirrenico e su quello ionico i mari mosso sia il tirreno che lo ionio il 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.